... Sono qua con Diego Banchiero, segno del comando, oggi è 5 febbraio, sto urlando perché ci sono le prove del banco in sottofondo, è un giorno in cui accade una cosa abbastanza importante per voi del segno del comando perché comunque aprire al banco del mutuo soccorso non è cosa da tutti i giorni, dimmi qualcosa Diego. Sì ecco, hai già detto la cosa più importante, un'occasione straordinaria per il segno del comando, quella di essere stato scelto per aprire il loro concerto genovese, insomma è una grande occasione soprattutto anche per poter suonare al Politeama che è uno di quei palchi dove non è facile vedere i gruppi insomma della nostra scena genovese e anche insomma italiana. Che cosa ti aspetti da una serata come questa, al di là dell'emozione che sicuramente sarà alta? Sento già di aver avuto un grosso regalo, quindi tutto il resto che capiterà sarà in discesa e... Ok, tutto quello che viene dopo è grasso che cola. Esatto, sì sì. I tuoi compagni sono tutti molto contenti, siamo sereni, concentrati, ovviamente avremo un tempo abbastanza ristretto perché appunto è stata già, c'è stata già questa importante occasione quindi ci siamo inseriti col massimo rispetto e non vediamo l'ora comunque di far conoscere anche ai tanti che interverranno che magari non è che seguano spesso il nostro lavoro, qualcosina di nostro e quindi far sapere che ci siamo anche noi oltre ai gruppi a San Rile, Marte 2020. Grazie a tutti, ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.